La nuova fake news messa in giro dai falsari del Movimento 5 Stelle e dai loro fedeli alleati del Partito Democratico è che Fratelli d'Italia e in Europa avrebbe votato contro il Recovery Fund. La verità ovviamente è un'altra. Ci siamo astenuti su una mozione che prevede sì il Recovery Fund, misura sulla quale siamo favorevoli, ma anche nuove tasse, nuove tasse per le nostre imprese in ginocchio, nuove tasse come la Plastic Tax europea e su questo certo che non siamo d'accordo. E i signori che stanno al governo, invece di andare a chiedere all'Europa di mettere nuove tasse sulle nostre imprese in ginocchio, dovrebbero pagare la Cassa Integrazione, dovrebbero far arrivare liquidità a queste aziende. Quindi come sempre, a differenza di quello che accade per il Movimento 5 Stelle e anche per il PD, la posizione di Fratelli d'Italia è perfettamente coerente. Sì al Recovery Fund, sì a risorse dell'Unione Europea, vere per aiutare l'economia degli Stati membri, ma no a prendere quelle risorse da imprese che già sono in ginocchio.